buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di bl in e out deep night è un lacorn bl del 2024 è composto da otto episodi e come protagonisti principali shogun che interpreta cam e first che interpreta ora questa bl incomincia con una parte un po scolastica ma poi alla fine è tutta quanta incentrata d'un locale particolare la madre di cam a un locale notturno dove ci sono dei ragazzi che praticamente fanno da compagnia alle persone che vengono lì queste persone pagano e hanno praticamente scelgono il ragazzo certe volte sono anche delle aste e danno i ragazzi tutti per loro e soltanto che non è una cosa sessuale praticamente semplicemente un ragazzo che ti fa compagnia per tutta la serata ragazzo carino quindi piacevole con cui sta in compagnia e poi la cosa finisce praticamente lì la trama di deep night parte da una sceneggiatura scolastica fino ad arrivare a quella che è la sceneggiatura vera e propria quindi poi tutto ciò che si aggira attorno ad un locale il deep night che dà appunto il titolo alla serie stessa la via stessa e mi spraya è praticamente la proprietaria di questo locale ed è anche la madre di cam e cam non vede di buon occhio questa sua attività come tantissima altra gente appunto perché questo locale locale dove le persone vanno persone anche facoltose persone anche famose influencer e affittano dei ragazzi certe volte anche con delle aste per aggiudicarsi i ragazzi migliori e tenerli per loro tutta quanta la serata non è un qualcosa che va a finire ad un qualcosa di sessuale praticamente finisce semplicemente lì la serata quando dopo che questi bei ragazzi che sono stati affittati presi in affitto e tengono compagnia queste persone lì nel locale e più avanti andando più avanti nel nella bielle cam si accorge di appunto che cos'è effettivamente questo locale perché è un locale che non c'è soltanto non parla soltanto di ragazzi a pagamento quindi per fare compagnia le persone ma questi ragazzi fanno anche degli spettacoli sono acrobati è una casa secondo me molto molto bella un bel locale un locale in cui si potrebbe tranquillamente passare una una piacevole serata nottata e solo che poi cam andando a lavorare in incognito in questo locale si innamora del del ragazzo numero uno perché i ragazzi c'è una classifica di questi ragazzi proprio all'interno del locale e il numero uno praticamente è il nostro vela di cui si innamora appunto cam solo che c'è una regola nel locale ci sono cinque regole la quinta che è la più importante da tutte quelle che non ci possono stare relazioni tra i ragazzi tra le persone che lavorano dentro al deep night e da lì succede un po tutto perché ovviamente vela e cam si innamorano uno dell'altro ma questo succede solo con loro succede un po anche di nascosto con gli altri ragazzi oltre a questo c'è il problema che la matrigna di cam che lo vuole a casa con lei cerca in tutti i modi mandando soprattutto retate della polizia e al locale per riuscire a far venire a casa del padre di cam appunto cam stesso e mandando quindi in bancarotta e freia e poi ovviamente c'è il lieto fine dopo tutte le vicende e secondo me è una bielle molto carina le location sono molto belle e non ci sono cose errori grandissimi ed è una bielle thailandese che secondo me per gli appassionati del genere non può mancare di essere vista allora partiamo come sempre dalle cose che ci sono piaciute di più della bielle e la prima cosa che a me ovviamente viene a mente è un personaggio anzi più un attore sarebbe sea games che interpreta il personaggio di 6g questo attore a me come l'ho visto ha colpito perché è bellissimo addirittura talmente bello che non sembra neanche thailandese sembra più uno di quei classici idol sud coreani e non mi sono informato ma non escluderei che avesse qualche appunto parentela da quelle parti è veramente veramente un bel ragazzo ha un sorriso meraviglioso e mi sono innamorato quindi per me lui sta tra le cose più belle ovviamente pollice in su di questa bielle un'altra cosa che ci è piaciuta molto deep night sono i ragazzi che oltre ad essere bravi attori sono anche veramente dei bravi cantanti ballerini performance praticamente perché creano degli spettacoli all'interno all'interno del locale e della serie che possiamo vedere nei vari episodi e questa è una cosa che mi piace soprattutto per tutti quanti gli attori che ho visto principalmente di bl che si danno a fare non solo come attori ma anche in altre specialità infatti tantissimi attori che vediamo con le bl sono a loro volta cantanti sono a loro volta ballerini e questa è una cosa bella perché io da regista da produttore italiano comunque di bl di cortometaggi lungometraggi ho trovato difficoltà nel trovare appunto degli attori che sapessero fare qualcosa di differente oltre la recitazione già difficile trovare attori che riescono a recitare in modo degno ma poi riuscire a trovare qualcuno che sappia anche magari fare un passo di danza oppure suonare una chitarra qualcosa è veramente veramente difficoltoso qui per ogni cosa devi prendere un attore differente mentre lì in asia da quello che io ho visto mi piace tantissimo che gli attori che tu trovi sanno fare anche molte più cose sono multitasking e questa è una cosa che ci piace tantissimo soprattutto lo vediamo appunto in in questa bl un'altra cosa che ci è piaciuta di deep night ha come già accennato prima è la location il locale è veramente molto bello si presta benissimo ed è quasi tutto girato all'interno appunto di questo locale ma è stata scelta una bella location che ha dato veramente sarà veramente quella ciliegina in più sulla sulla torta su questa bella torta che appunto questa bl un'altra cosa che ci è piaciuta molto di questa bl quindi grande pollice anzi doppio pollice in su è la trisome tra i personaggi di seiji japan e ken è raro vedere una bl una trisome a meno che non sia proprio stata creata la bl appositamente per quel genere di sceneggiatura e invece qui l'hanno messa tranquillamente a me piace tantissimo infatti io l'ho fatto ho fatto anche un cortometaggio in cui troverete il link in descrizione che si chiama appunto 3 che parla proprio di una trisome tra tre ragazzi e questa cosa appunto mi è piaciuta tantissimo perché l'hanno messa con una naturalezza unica anzi sto notando che piano piano sempre di più nelle bielle stanno usando mettendo anche vari generi e varie particolarità del mondo lgbt che prima invece non erano minimamente contemplate e questa cosa mi sta piacendo molto come sempre siamo arrivati al momento del mio personaggio preferito nella bl come ho detto secondo me l'attore più bello è se games e però il personaggio proprio personaggio preferito della bl a me talmente è una donna e ed è miss freya miss freya un personaggio che mi è piaciuto tantissimo è interpretato la tanya interpretato magistralmente e appunto questo personaggio si vede che sembra fragile ma in realtà è veramente molto forte ci tiene tantissimo al suo locale ma ancora di più tiene a suo figlio che per lui farebbe tutto anche addirittura lasciare il locale però mi è piaciuto anche il fatto che si vede che lei tiene tantissimo anche ai suoi dipendenti si tratta veramente come se fossero dei figli e non un personale qualunque questa cosa non è assolutamente data per scontata quindi mi piace un personaggio veramente ben costruito e che legge benissimo il suo ruolo di matriarca di questo locale del deep night da cui prende appunto il nome la bl una cosa che proprio non mi è piaciuta non mi ha fatto tanto impazzire della bl questo continuo arrivare della polizia nel locale allora o tu nel locale veramente sai che c'è qualche cosa di anomale quindi continui a fare riluzione e così ma tecnicamente questa cosa sarebbe impossibile perché tu stai rovinando a me al mio locale a parte mi stai facendo per una brutta nomina ma poi mi stai rovinando il lavoro stai cacciando via la mia clientela e mi stai mandando in fallimento e questa è una cosa che la polizia non può fare se non ha veramente delle prove concrete e vere per cui deve fare un praticamente delle continue retate queste retate sono mandate dalla matrigna come abbiamo già detto di cam ma anche se fosse non è che una persona prende chiama e dice polizia andare a fare la retata lì perché quelli mi sono antipatici e quelli ogni sera vanno tecnicamente non funziona così quindi è una cosa abbastanza un po' inverosimile per fortuna alla fine questa cosa finisce perché l'unica cosa secondo me un po' bruttarella della storia potevano giostrarsela un pochettino meglio però a parte questo non vedo altri spunti da da pollice in giù per deep night se vi è piaciuta questa video recensione mettere mi piace condividete scrivete nei commenti anche voi cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto di deep night ci vediamo in un prossimo video di BL in e out saranghe